Allora oggi è la recensione su un giocattolo molto recente che in realtà è il remake di un giocattolo passato e si tratta degli orsetti cupcake. Questi orsetti in realtà non esistevano prima ma esistevano delle bambole che tuttora sono comunque in commercio in maniera rivisitata le quali avevano un cappellino a forma di cupcake e questa specie di parte sotto ed erano reversibili cioè una volta rivoltata questa parte diventavano bamboline. A me questo prodotto mi ha incuriosito perché a me le bamboline non sono mai piaciute, i peluches molto e allora ho deciso di fare un acquisto, ce ne sono ovviamente di tanti tipi nel senso che in base al colore del cupcake, della base tu puoi decidere insomma tutte queste cose qui se è il che orsetto prendere, di che tipo è comunque praticamente io ho preso questo che aveva la diciamo frosting e la glassa nera e la base rosa praticamente l'ho trovato dentro una confezione in plasticato con un'etichetta e poi l'ho aperto quando l'ho aperto ho trovato un orsetto dentro, fra l'altro bellissimo e carinissimo con un muso adorabile fra l'altro io mi sono sorpresa perché mi aspettavo una qualità veramente bassa e ora anche se effettivamente per gli amanti dei peluche non è proprio un prodotto di punta che consiglierei in realtà ha il suo fascino espositivo, prima di tutto ha un odore buonissimo, quello che ho scelto in particolare questo era al cioccolato e fragola, una cosa del genere e ha tuttora questo odore però è diventato meno forte ma poi anche il muso del peluche nonostante sia fatto per stare dentro al suo cupcake è carinissimo e anche il color crema è adorabile, il vestitino è altrettanto bello il pro di questo prodotto, da piccolina mi sarebbe piaciuto un casino, nel senso che ci avrei giocato e li avrei collezionati tutti, per un grande è comunque un prodotto molto carino e delizioso anche da vedersi, nel senso che se si amano i peluche per esporli, peluche a forma di orsetto magari uno lo consiglierei, il contro è che secondo me, essendo comunque cupcake, quindi essendo plastica magari portarselo a letto o usarlo come un peluche non è proprio come un peluche normale un'altra cosa, anche il lavaggio dovrà essere più delicato e ovviamente anche ora questo peluche è nuovo quindi non è stato sporcato, però anche portarselo a dormire per un bambino o a lavarlo può essere un'operazione delicata che secondo me gli può far perdere il suo odore secondo me è un oggetto che ha il suo appeal, l'ho preso e non me ne pento, nel senso che è stato uno dei miei acquisti che mi ha reso più felice è particolare, ve lo dico proprio, è particolare secondo me, è proprio un oggetto particolare a livello collezionistico espositivo è molto carino, per un adulto magari prenderne uno basta avanza non serve prenderne due, nel senso, ma essendo gli altri infatti ho visto che sono più o meno simili a questo però con vestiti diversi, quindi per adesso il mio giudizio è questo però lo trovo veramente un acquisto molto delizioso quindi se siete collezionisti di peluche, se vi piacciono, valutate, magari scegliete il colore che vi piace di più e poi magari ne prendete due o tre per abbellirli, per metterli in esposizione e se avete dei bambini invece questo lo trovo un ottimo regalo tasto dolente, secondo me il prezzo, perché il prezzo di questo peluche è di 12 euro e qualcosa poi non so se in vari negozi si trova meno, online si trova addirittura di più e secondo me per la qualità, nonostante sia molto bello, molto fatto bene, è un prezzo eccessivo cioè questo peluche secondo me andava messo, boh, forse a 10 euro, forse a 6 cioè nel senso, è un prezzo che secondo me per la qualità non ne vale la pena perché comunque si tratta di plastica, di plastica e si tratta di un vestito sopra la plastica e soprattutto online è molto difficile da trovare, cioè si trova ma a prezzi un po' più alti nei negozi giocattoli l'ho trovato, ma anche lì è stato raro può darsi che io sono andata nel periodo di Natale e quindi non ne ho trovati tanti non tutti i negozi le hanno, però hanno le cupcake bamboline non so se questo prodotto andrà avanti, se una volta gli ultimi pezzi insomma verranno ritirati dal mercato, però io ve lo consiglio proprio fra i prossimi acquisti vi faccio un saluto e ci vediamo alla prossima recensione